allora partiamo dal periodo di lockdown come lo avete affrontato è stato un periodo comunque sia per noi impegnativo perché chiaramente come azienda di pulizia e sanificazioni siamo stati aperti in quel periodo e abbiamo avuto sicuramente un surplus di lavoro per quanto riguarda le sanificazioni che chiaramente non ha compensato minimamente la perdita diciamo del lavoro dato dalle pulizie poi sono il nostro core business e quindi è stato comunque un periodo di fermento abbiamo cercato di fare del nostro meglio anche considerando che tantissimi clienti specialmente da dopo l'8 marzo dopo il dpcm del governo avevano praticamente dovevano stare chiusi per per legge quindi il il grosso del lavoro è venuto diciamo per quanto riguarda le sanificazioni alla riapertura quando hanno cominciato a far riaprire le aziende e lì c'è stato chiaramente un grosso sforzo da parte nostra anche organizzativo insomma ecco questa fase diciamo di passaggio diciamo dal lockdown alla speriamo normalità invece come la state affrontando con ottimismo perché quello ci vuole sempre con ottimismo siamo abituati a rimboccarci le maniche perché perché siamo partiti comunque da zero non abbiamo santi in paradiso e quindi siamo fiduciosi realisti al tempo stesso però insomma e niente stiamo fortunatamente vediamo che c'è del movimento cioè stanno riaprendo piano piano tutte le attività abbiamo anche delle strutture ricettive chiaramente sono quelle più colpite da 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 questo covid e che molte cominciano a riaprire da e proprio dal primo di luglio dal primo di luglio ripartiranno quindi vediamo piano piano del movimento che ci fa ben sperare insomma. Senti parliamo di questo connubio con la menzana è una squadra che faccio una battuta è stata fermata solo ahimè dalla pandemia perché stava andando molto bene come è stato questo connubio? Noi ci abbiamo sempre creduto sin da quando è ripartita diciamo perché crediamo che un'azienda seria non può prescindere da sostenere quelle che sono le eccellenze del territorio anche in ambito sportivo per l'appunto e quindi ci siamo sentiti di legare e di dare un supporto per quanto possibile alla alla menzana e quindi legare il nostro nome a quello della della società. Un anno zero della menzana accompagnato anche da da voi nella speranza di ripartire anche in quel settore lì. Esatto esatto la speranza e chiaramente lo vediamo bene già anche a livello governativo c'è un po' di navigazione a vista figuriamoci purtroppo è un po' per tutti così anche quindi si fa male a fare delle previsioni a lungo periodo però l'interesse e la voglia e la speranza è quella di sicuramente andare avanti e di di rilegare sempre i nostri nomi insieme praticamente. Alla prossima! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.